Buona Wendy, vi presento No ma mi vergogno, avevo scritto una cosa un po' simpatica, fa ridere se la leggo io Comunque dice così Per festeggiare finalmente la tanto attesa maturità, giunta alla veneranda età di 25 anni Prego, applauso, grazie Grazie, grazie Ho deciso di rendere concreta quella che per me è sempre stata una passione, ovvero quella della moda Sono quindi lieta di presentarvi ciò che ho creato nell'ultimo anno, sia a scuola che a casa privatamente E presenterò poi alla fine anche l'abito utilizzato per la tesi Niente, vi ringrazio tutti, buona visione, divertitevi e un bacione a dopo Ciao, grazie 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 Grazie